bentornati sul canale questa settimana l'abbiamo diretta a profusione stasera parliamo con Lorenzo Poli che ringrazio perché è stato un piacere l'ho avvisato all'ultimo è riuscito a famiglia, cena tutto insieme e quindi io ti ringrazio per il poco preavviso ed è un piacere davvero parlare anche con te grazie Matteo grazie a te e grazie a chi ci seguirà è davvero un grande piacere essere qui stai bene? Tutto a posto? Ci racconti? Tutto a posto in questi ultimi due giorni che ho ripreso le lezioni in conservatorio sveglia ore 5 perché la prima lezione è alle ore 8 però gasati quindi a parte questo che comunque è sempre bella l'esperienza di svegliarsi le 5 che lì per lì viene quasi da ridere insomma che una volta come sappiamo tutti chi suonava a quell'ora non era neanche arrivato a casa e invece adesso si è diventate delle persone degli esseri umani e la musica sembra che sia diventato un lavoro pazzesco e ci si alza le 5 Lorenzo io penso che è un lavoro perché tu fai questo lavoro da quanti anni? 30 anni, 35 tutti? Da 41 a dire il vero perché ho iniziato quando ancora il lavoro diciamo minorile non si poteva di notte avevo 15 anni poi dai 16 invece risulta quindi dall'83 ho la mia iscrizione all'Empals per cui sono 40 anni tondi ecco 41 se si conta anche il primo fatto ma che in realtà non avrei potuto ma dopo tutti questi anni poi noi faremo adesso un discorso un po' sulla tua carriera com'è fare il musicista fare il turnista non esiste più ormai questo termine come lo vedi il mondo del turnismo adesso dello studio di registrazione o del del sideman anche che fa sia lo studio che live come lo vedi tu Loretto che ne hai viste tante tu nei tuoi anni come lo trovi questo lavoro? È cambiato? Sì allora è un continuo cambiare ogni tanto leggere anche un po' di storie degli artisti delle etichette discografiche delle televisioni serve perché di fatto sembra di fare riferimento a una cosa che era non so se si dica monolitica e che ha vissuto per 200 anni invece no cioè un certo tipo di realtà musicale riguarda solo pochi decenni quindi che è all'interno di questi pochi decenni i cambiamenti sono stati continui quindi è un continuo cambiare allora sicuramente lavorare diciamo fra virgolette conto terzi che è quello che può essere classificato come quello che erano i turnisti che turnista il termine turnista deriva da cioè tu lo sai magari diciamo perché non lo sapesse da quando per registrare i periodi di lavoro in registrazione erano di tre ore in tre ore ogni tre ore era un turno e aveva un compenso quindi se uno faceva quattro ore percepiva due turni quindi è nato da questo il termine turnista e sicuramente una volta non era così diffusa la qualità musicale che c'è adesso adesso ci sono tantissimi bravi musicisti di ogni estrazione di ogni età da chi è più attempato come me o anche chi è più grande di me anche chi è giovanissimo quindi c'è molta più offerta la qualità diciamo anche tecnica sullo strumento è più diffusa e per cui anche fortunatamente direi per il futuro della musica è anche meno frequente che un solo musicista lavori con tanti artisti come è capitato per qualche decennio insomma dove trovare uno bravo non era facilissimo in grado di senza le prove magari arrivare destinazione o per un concerto una trasmissione un disco eccetera che facesse subito quello che gli veniva richiesto per cui adesso sì una volta era un pochino più difficile è per questo che prima magari era più frequente che la figura di un musicista fosse legata a tanti artisti a volte era legata secondo me per questioni realmente musicali cioè quello che uno strumentista era in grado di dare un contributo dal punto di vista creativo ma nella maggior parte dei casi in realtà serviva semplicemente uno che suonasse bene quello strumento intonato a tempo che fosse collaborativo propositivo solo quanto servisse e basta e esecutore per il resto quindi insomma diciamo che è un po' in tutto in divenire adesso non mi voglio dilungare troppo però si è sempre suonato sempre si suonerà certo è un continuo cambiare quindi chi magari viveva solo lavorando conto terzi considerando quanto è cambiata anche la discografia e le dinamiche di mercato ovviamente è cambiata parecchio ah naturalmente però insomma l'importante secondo me la chiave per ciascuno secondo me che non so nessuno premessa è avere sempre presente la parola presente e futuro quindi non ancorarsi mai al passato neanche di un giorno perché è una cosa che rischia un po' di ingabbiarti no? cioè o pensare o vivere in quello che è stata una cosa che è passata quindi sicuramente ha conferito ancora più valore nel presente nella realtà musicale di tutti i giorni di adesso ma in realtà è andata quindi via bisogna cercare chiaramente per quello che è possibile di vivere ogni giorno come se fosse una ripartenza è molto stimolante secondo me e pensare a dei piccoli futuri ecco personalmente non mi piace guardare a lunghissimi futuri non so se è una questione anagrafica però mi piace avere piccole cose da fare sempre vicine raggiungibili sia musicalmente che come progetti di vita di vita e via se va avanti ma Lorenzo ascoltami invece andando ancora più indietro io ho una domanda che faccio sempre e l'ho fatta anche a un tuo collega perché con il bassistio ho molta affinità salutiamo anche il buon Paolo Costa che mi ha messo in contatto con te super Paolo ascoltami il tuo incontro con la musica come ti sei avvicinato c'è stato un brano che ti ha colpito da ragazzino che ti sei detto io voglio fare il musicista ti ricordi questo momento Lorenzo? no perché è stata una cosa naturale in casa si respirava già musica e mia nonna materna era diplomata in pianoforte anche se il pianoforte non li ho mai visti io in casa perché li aveva persi nella guerra però quando io e mio fratello Corrado che è più grande di me 5 anni suonava anche lui cioè in casa mia nonna ci faceva fare le prime letture di solfeggio ci faceva guardare un po' la musica ci teneva vicino mia mamma appassionatissima di musica strimpellava un po' la chitarra grande ascoltatrice veramente una buona cultura musicale che infondeva in casa quindi io ancora tra l'altro quasi tutti i dischi che avevo quando ero bambino e ogni tanto vado a curiosare la prevalenza sono 45 giri ne ho davvero tantissimi e c'è di tutto ma non ti so dire la varietà non riesco neanche magari sarebbe bello una volta mi metto lì e faccio la lista per vedere quante cose diverse giravano in casa per cui abitavamo in campagna in un paese molto piccolo che si chiamava Due Bandiere cioè una minoranza etnica in Val Trebbia e d'inverno c'eravamo solo io e mio fratello e due nostri amici i fratelli migliorini con i quali avevamo un complessino cioè l'unica cosa che facevamo era o pescare o suonare ci eravamo messi un po' così mio fratello con la fisarmonica per una serie di motivi io con la chitarra per un'altra serie di motivi non mi ricordo il passaggio in casa c'era una chitarra su cui mia mamma strimpallava qualche accordo e da lì è stato per quello che mi ricordo perché sono passato tanti anni susseguirsi di piccole evoluzioni piccole piccole i grandi sacrifici dei miei genitori quando hanno fra virgolette deciso di farci studiare musica quando ci hanno permesso diciamo ecco così è più corretto di studiare musica che ha un costo esorbitante per una famiglia ecco di 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 normalissimo ceto ecco basico avere due insegnanti di musica più comprare uno strumento è una spesa quasi irraggiungibile quindi fecero dei grandissimi sacrifici per mandare me da Giancarlo della Casa chitarrista classico a studiare chitarra classica e mio fratello a studiare fisarmonica con Luigi Costa che era un fisarmonicista e autore dei tempi di Piacenza e quindi da lì poi è un pochino che ognuno conquistava qualche piccola conquista sullo strumento e per quello che era la realtà musicale di Piacenza era quasi scontato che appena tu sapevi su una qualcosa venissi reclutato da qualche orchestra di liscio la nostra orchestrina era di liscio perché sono sempre stato molto appassionato di quello tradizionale diciamo quindi non non tanto quello che gira adesso però del tradizionale sono sempre stato molto appassionato e quindi da lì mio fratello andò con un'orchestra che si chiamava Adriano Corniolo io andai con Gianni Salesi insomma piano piano io sempre un po' attaccato alla gonna del mio fratello ho approdato sia alle alle orchestre professioniste quindi Gianni Salesi Franco I Mister poi tutta una fila fino ad arrivare a Bagutti Pinino Libe insomma tante orchestre professionisti di Piacenza e e poi anche a fare le prime registrazioni perché stando sempre un pochino vicino a lui feci la prima registrazione dell'orchestra che si chiamava Franco I Mister e ero veramente molto giovane era prima che iniziasse a fare le serate però mio fratello venne a casa e disse il chitarrista al quale sono debitore che è Giorgio Zambonini perché mi coinvolse poi in altri progetti lavorativi per le orchestre non 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 voleva non poteva non voleva non mi ricordo suonare le parti di mandolino e chitarra hawaiiana questa è la definizione quindi mio fratello trovò un conoscente a Piacenza che aveva una chitarra hawaiiana quindi niente pedali una sola tastiera il mandolino ce l'avevo quindi ci si è messi a casa mi ha fatto sentire cosa dovevo fare io ho imparato le parti sul mandolino che non mi ricordo neanche come l'avessi intonato perché chiaramente non essendoci informazione si è consumata in un giorno questa cosa insomma ho imparato le parti sono andato in questo studio che c'era a Cremona che si chiamava Studio 33 dove feci la mia prima registrazione appunto su questo disco che si chiama chitarra mia e ho suonato la chitarra e il mandolino ma si trova su YouTube? non lo so ho registrato due pezzi uno si chiama preghiera ma renara e l'altro l'altro che cos'è per te l'amore? non lo so ma quattro anni 15 ma anche 15 perché da lì poi a 16 ero già avviato col lavoro quindi era prima ne avevo avuti 14 o 15 quindi sicuramente invece Lorenzo l'incontro invece col turnismo classico il primo lavoro te lo ricordi il primissimo era corno giro ogni cosa no allora si va indietro feci qualche prima registrazione in uno studio che che aprì mio fratello e nel quale io poi entrai in società all'età di 17 anni quindi 18 diciamo formalmente per la forma di documenti nel castello di Rivalta che è sempre in provincia di Piacenza e lì tra le tante persone ebbi modo di registrare con con Pino D'Angio e con altri ovviamente di non conosciuti o almeno non di di fama nazionale però iniziai a farmi un pochino di esperienze anche con quello che non era propriamente liscio e lì già suonavo solo il basso quindi nell'84 più o meno tra i clienti dello studio sì avevo 17 anni e sì sì lì venne Michele Santoro arrangiatore che in quel periodo collaborava in modo molto stretto dal punto di vista della produzione e degli arrangiamenti con quello che era il mio insegnante di quegli anni di Nudo Autorio che è sempre stato un mentore un po' di 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 tanti di noi e ecco feci un 45 giri per Graziano Cattani per la EMI in questo lavoretto insomma Michele vide che insomma che avevo qualche carta da giocarmi quindi quando si presentò la prima occasione che era la tournée di Renato Zero che si chiamava Zero dell'87 appunto Dino non poteva fare tutte le serate quindi mi hanno chiamato entrambi per sostituire Dino in metà tournée di quello lì quindi non erano tantissime date però diciamo quello lì è stato il passaggio un pochino più corposo ma come è stato l'impatto Lorenzo abbastanza violento però devo dire una volta ero molto agguerrito avevo molta voglia di fare non che adesso non ce l'abbia però ero molto ambizioso ecco musicalmente cioè ascoltavo i dischi e sognavo di suonare con questo con quell'altro per cui non vedevo l'ora cioè non è che io sì sono rimasto sconvolto per l'evento ma non vedevo l'ora di andare là col coltello in bocca alla rango sì sì ero felicissimo ma in quella tournée Lorenzo chi c'era come avevi che compagnia avevi di crociata chi c'era alla chitarra alla chitarra c'era Carlo Pennisi bravissimo grandissimo chitarrista musicista che poi si è trasferito negli Stati Uniti che è il cugino di Manangolo che è il cugino di Manangolo bravissimo che si sono portato con Carlo ah ecco allora mandagli un saluto che non ho mai più visto purtroppo Carlo Pennisi poi c'era Michele Santoro alla chitarra alla chitarra acustica e alle tastiere e agli annaggiamenti Flaviano Cuffari alla batteria Stefano Senesi è pianoforte che è sempre stato un po' un'istituzione per Renato dal punto di vista pianistico e alle tastiere Alberto Rocchetti e uno mi ha scotti sì esatto grazie ad Alberto poi saltiamo un po' di pagine per risparmiare un po' magari di vecchiume a chi non ha voglia di ascoltare le mie il mio libro dei ricordi però ecco ad Alberto Rocchetti devo il fatto di avermi portato a fare l'audizione con Vasco te la racconti com'è stata? sì allora Vasco te la dico velocemente Vasco si era staccato da Elmi in quegli anni lì per il disco Liberi Liberi ecco e quindi si seguì diciamo che grosso modo si produceva da solo mettiamola così e quando fece la tourna di fronte del palco fece una nuova band con le audizioni eccetera mise insieme questa band nella quale c'era Braido Paul Martínez al basso eccetera Daniele Tedeschi alla batteria Grande Roccia Davide Devoti e appunto Andrea Braido sempre Rocchetti e le tastiere e Andrea Innesto al sassofono questo era l'89 quando ho iniziato lì Alberto suonava sia con Renato che con Vasco per una serie di motivi vollero sostituire il bassista anche se musicalmente andava benissimo perché aveva veramente il modo giusto però per una serie di altri motivi volevano sostituire il bassista e quindi decise di fare le audizioni allora Alberto disse a Maurizio Lolli che era diciamo il manager di Vasco ma era anche il suo confidente come insieme a Floriano Fini erano proprio le sue due persone più vicine a livello affettivo e professionale disse a loro di venire ascoltare un concerto di Renato nel quale nel quale suonavo questa era un'altra tournette che feci da solo che era la tournette di Voyeur tra l'89 e il 90 appunto e quindi conobili Maurizio Lolli e Floriano quando poi si presentò l'occasione di venire al dunque per loro a livello di produzione di cambiare il bassista dissero ad Alberto che mi avrebbero fatto l'audizione quindi tecnicamente i nomi erano tanti mi ricordo che erano stati fatti ma l'audizione l'abbiamo fatta se non mi ricordo male io e un altro bassista di Genova che non mi ricordo chi aveva portato sono andato all'audizione nello studio di Vasco che si chiamava credo che ce l'abbia ancora a Bologna che si chiama Chorus quindi mi dissero di preparare questi cinque pezzi io ero talmente sul pezzo che comprai tutti i cd che ero riuscito a trovare in quel e i dischi che avevo trovato nel negozio di Piacenza Club 33 si chiamava il negozio che non c'è più ovviamente mi studiai più pezzi possibili non dico tutti però ne avevo imparati tantissimi tutti a memoria quindi mi comprai un giubbotto un paio di pantaloni avevo i cappelli lunghi fino a qui insomma sono partito ero gasatissimo e molto preparato devo dire arrivai là c'era Braido e tedeschi solo con le telecamere e in regia c'era il resto della band c'era Rocchetti c'era Vasco Sir Smai Maurizio Biancani a Biancani che l'ha intervistato ah ecco il Falcone che era il fonico che faceva sia i dischi che i tour grande Maurizio mi manca tanto che non lo vedo e spero ci sia occasione via la giro questa diretta così ti guarda alla grande vai Falcone e niente praticamente lì abbiamo registrato abbiamo messo in registrazione sia il nastro che la telecamera abbiamo suonato due o tre pezzi il pezzo chiave era siamo solo noi che io mi ero studiato bene guardando anche le videocassette più vecchie col gallo col gallo sì il gallo è veramente è pazzeschissimo cerchi di intervistarlo cerchi di intervistarlo sarà sicuramente un'esperienza bella a livello umano e musicale è veramente è pazzesco il gallo bassisticamente anche come persona che come artista bassisticamente è uno che ha veramente un grande peso me l'ero preparato bene e imitavo il gallo nella pronuncia sullo strumento che infatti l'avevo imparato talmente bene che se lo faccio adesso mi viene uguale identico le pennate su giù e quindi fatto quel pezzo che diciamo era un po' la prova la vera prova del nove sì quello era il pezzo chiave perché in effetti non è un pezzo semplice se vuoi farlo alla gallo perché Paul Martinez lo faceva a modo suo bellissimo ugualmente ma l'aveva personalizzato come si può sentire dal cd fronte del palco il primo e niente insomma ho fatto questi pezzi poi mi hanno detto se sapevo se conoscevo qualche altro brano avevo detto sì da lì siamo andati avanti e ne ho suonati un bel po' quindi sicuramente ho fatto una buona impressione saluto a tutti torno a casa faccio due parole proprio due con chi c'era compreso Vasco io credo con Vasco deve aver scambiato in tutto la mia collaborazione 28 parole credo non credo di più a poca roba sì perché poi era anche un po' per questioni di contesto di timidezza eccetera la timidezza non ce l'avevo sullo strumento era soltanto nell'atteggiamento sullo strumento fortunatamente quando suono non sono timido come atteggiamento cerco di vincere magari un po' la timidezza reagendo però come atteggiamento sono tendenzialmente ero di più prima chiaramente adesso con gli anni ci si sblocca un po' confrontato sì diciamo sullo strumento ero abbastanza deciso ecco come carattere un pochino meno però ecco feci due parole basta tornai a casa dopo un po' di tempo mi chiamarono per dirmi ok abbiamo scelto te bellissimo scherzo ho preso la bicicletta sono andato fuori andavo 300 all'ora per l'adrenalina che avevo il corpo poi ero giovanissimo è veramente molto giovane quando mi ha andato l'ok era il 90 quindi ne avevo 23 anni ebbe 67 67 sì poi sono andato in tour diciamo nel 91 dopo fronte del palco perché mi ha detto guarda che San Siro e Roma ormai li facciamo con la formazione che c'è lì però dal tour dopo e lì ho fatto un anno le date del 91 più un po' di registrazioni in qualche studio che però non sono mai state pubblicate ecco beh però Lorenzo in quel periodo lì eri un po' rock perché con Vasco quindi vivi rock lo sono diventato dentro lo ero già fuori non mi era mai capitata l'occasione ma mi è sempre piaciuto cioè buttarmi in quello che c'era da fare sono così anche adesso cioè se viene fuori un disco dei canti degli alpini ma non vedo l'ora di vedere come sono fatti di contestualizzarmi quindi difficilmente mi sono tirato indietro è stato molto difficile quindi lì c'era quest'occasione ci sono volato dentro poi grazie ad Alberto e anche a Mario Chiesa diciamo e devoti e solieri quelli che frequentavo quel periodo ovviamente ho migliorato la mia cultura della pronuncia della letteratura rock per cui ma poi con Vasco come finita con Vasco poi dopo ho fatto la tournée hai registrato sì ho registrato un po' di cose poi da lì praticamente Vasco si è riavvicinato Guido infatti gli spari sopra è tornato Guido però diciamo in quel periodo lì sembrava che quel disco lì venisse prodotto da Dave Stewart degli Eurythmics infatti con lui avevamo fatto delle registrazioni con lui e Vasco e Daniele Tedeschi a Condulmer lo studio di Condulmer a Treviso e siamo stati due o tre giorni a registrare provini su provini su provini poi arrivò Guido Helmi che nel frattempo stava registrando già col Gallo e Bissonette e altri musicisti Lele Melotti eccetera da altre parti hanno messo insieme molto materiale e poi hanno deciso cosa fare quindi il lavoro di Dave Stewart purtroppo non è stato tenuto per cui è rimasto lì ci sono un sacco di provini di Chischis beh sì sugli Spari Sopra ci sono tanta gente c'è anche Alfredo che suona che ha fatto delle registrazioni sugli Spari Sopra c'è sì io mi ricordo cerchiamo cerchiamo in diretta che è il bello della diretta perché mi ricordo lui ha fatto senza parole me lo ricordo il brano se Spari Sopra se non mi sbaglio c'è Lele e Bissonette ma ci sarà anche Alfredo sicuramente è ovunque Alfredo quindi sicuramente è ovunque per meriti ovviamente che è una bestia Lele Melotti c'è con l'aiuto e c'è anche Alfredo ah ecco in che pezzo suona? suona c'è scritto? craccia suona delusa è Alfredo su delusa ma veramente? sì lo so adesso penso un po' bene beh caspita ma era già in cioè in quegli anni che cambiava che lui il buon Rossi aveva già nel suo impero chiamare con l'aiuta nel 93 che era con Stingia sì era più un viaggio di guido penso quello lì degli americani perché Vasco è sempre stato molto concentrato secondo me per quel poco che non posso dire di conoscere Vasco però ho avuto modo di farmi un'idea standoci insieme comunque un annetto o quantomeno quel periodo poi ascoltando i suoi dischi che conoscevo un pochino abbastanza bene diciamo lui è sempre stato molto concentrato sulla materia prima quindi la scrittura la scrittura e il messaggio che devi trasmettere sia in termini di suono che di testo poi se suono a uno suono all'altro in effetti nella maggior parte dei casi secondo me è marginale è importante la testa cioè il progetto che ha in testa e Vasco cioè se è ancora lì dov'è e fa 10 San Sero in fila vuol dire che è veramente un gigante cioè che sia in termini artistici che di comunicazione però allora diciamo Guido è stata una figura molto presente ecco dal punto di vista della produzione perché in quegli anni Vasco era realmente un monello e era Vasco Rossi come lo è adesso però in quegli anni là quindi Guido era uno che gli permetteva di essere Vasco ma aveva la cordicella e lo teneva attaccato a terra e lo aiutava tantissimo nelle realizzazioni tra i musicisti le sonorità eccetera poi Vasco arrivava cantava scriveva per cui diciamo il trip dei musicisti stranieri secondo me era più di Guido Elmi sicuramente sul quale non si può dire nulla ecco di Guido Elmi veramente è stato la chiave fondamentale per Vasco per confermarsi Vasco Rossi anche commercialmente secondo me poi non sono né Castaldo sono opinioni personali cioè tu sei stato un musicista che ha suonato con lui e quindi chi me lì di te post Vasco cosa succede vai avanti col turnismo ti fai conoscere Mike si erano anni in cui c'era veramente un grande ho ricevuto molte telefonate subito ma anche quando ho fatto la prima tournée con Renato durante quella tournée mi chiamò sia Carlo Pennisi per suonare con Mike Francis mi chiamò Giovanni Totti per suonare con Scialpi e Scarlett per quel disco che fece poi non è con nessuno tramite Mario Chiesa questo mio amico chitarrista con cui avevo già lavorato diverse volte mi chiamarono per Gianni Bella per Marcella Bella la Formula 3 cioè arrivò tutto lì nel giro di qualche settimana non ci sono andato però le chiamate le ho ricevute dicevo ma non è possibile ho suonato con l'orchestra fino a lunedì scorso com'è possibile perché era abbastanza normale fra virgolette che una volta che eri su un cavallo nel giro sì era abbastanza normale quindi da lì insomma poi sono arrivate altre collaborazioni ho fatto le prime registrazioni con Ruggeri dove ho conosciuto Alfredo e da lì poi sono arrivati gli altri ma Lorenzo allora io non sapevo e l'ho scoperto stasera che tu sei nel live di Franco Bacciato Last Summer Dance sì ho avuto questa fortuna come l'hai conosciuto perché allora premetto anche io sono un batterista non ai tuoi livelli che tu sei un tornista professionista io Bacciato lo adoro e penso che si sia capito su mio canale perché ho intervistato mezzo mezzo turnismo che ha lavorato con lui come sei entrato in contatto con Bacciato ci racconti com'è stato questo incontro sì allora dal punto di vista lavorativo e dei contatti si è presentato l'occasione perché il posto che era in precedenza occupato da Lele Melotti e Paolo Costa era libero perché non mi ricordo con chi loro stessero lavorando in quel periodo quindi servivano un bassista e un batterista quindi grazie a Chico Gussoni col quale suonavamo eravamo in tournée con Ron io e Marco Orsi certo fece il nostro nome tra quelli fatti funziona sempre così quando serve musicista arrivano tante proposte alla produzione da uno dall'altro alla fine non mi ricordo se vennero a sentirci mentre eravamo in tournée perché era andata più o meno come era andata tra Renato e Vasco e lì successa un po' la stessa cosa quindi ci venne detto niente prendiamo gli accordi un po' sulla fiducia ecco musicalmente ok non c'erano le parti non c'era niente ci mandarono una cassetta che si sentiva così questa era la qualità audio era cassetta cassetta sì abbiamo tirato giù i pezzi quindi un po' così ovviamente non c'era YouTube non c'era niente un po' i dischi originali abbiamo preso qualcosa le stesure eccetera però non si si sentiva ma era probabilmente una copia di una cassetta e poi c'erano anche delle sequenze che cosa facevano cosa c'era in sequenza dicevo vabbè ma poi quando sei alle prove fate così il problema è che non c'erano le prove quindi io e Marco Orsi l'accordo erano questi qua molto eleganti perché devo dire l'eleganza fa parte di quella famiglia dentro e fuori lui Francesco Cattini Privitera tutta tutta la la famiglia che c'era all'intorno c'era molta nobiltà ecco è un bel modo di fare quindi detto questo gli accordi erano venite a fare il primo concerto non mi ricordo forse in Belgio era se ci sarà compatibilità artistica guarda l'eleganza allora fate tutto il tour quindi noi senza prove io e Marco come andare via ci siamo presi il velivolo ci siamo presentati là e al pomeriggio quindi Montestriamenti ciao 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 qualcuno conoscevamo qualcuno no e avevamo una pigna di pezzi così cioè con tutte le incognite del caso e qui io e Marco eravamo convinti di poter provare qualche brano al pomeriggio abbiamo detto quella quella cioè l'unica nostra salvezza è il pomeriggio del concerto quindi aspettavamo quel momento veramente niente quando siamo arrivati Franco che era meraviglioso accogliente simpaticissimo cioè il suo tabarro e il libro dei Ching li metteva quando faceva i pezzi quando scriveva perché nella quotidianità era una persona estremamente piacevole divertente spirituosa ma non me l'aspettavo io mi aspettavo di trovare veramente dunque invece no molto spiritoso molto spiritoso quando l'ho conosciuto ecco sei avuto questa fortuna anche tu si ha fatto l'autografo avevo 16 anni ecco quindi e figurati mi ero presentato con degli album anche molto improbabili perché non è che mi ero presentato con la voce del padrone mi ero presentato con Pollution Click tutti i suoi lavori quelli sperimentali certo sì sì poco dopo aver fatto e aver lavorato alla settimana enigmistica insomma sai che lui lavorava è nato così lui ecco e lui è arrivato e ci ha detto beh allora i pezzi che vi ha mandato quelli li sapete volevo ripristinare a Recknamese poi insomma ha tirato fuori che noi non avevamo mai sentito li abbiamo messi su così le frequenze sì i pezzi li abbiamo messi su così ok ci cambiamo ci abbiamo detto no stasera proprio il Titanic non è nessuno con fronte a noi abbiamo detto adesso ci schiamo facciamo un disastro un po' che c'eravamo preparati il più possibile anche seguendo i consigli di Chico che ovviamente abbiamo torturato perché lui era già in turno e dall'imboscata insieme a Paolo e Lele anche da prima quindi chiedevamo a lui cosa succederà quindi lui ci aveva dato comunque un po' di dritte alla fine la serata è andata bene e abbiamo fatto un bel periodo abbiamo fatto due anni insieme tra cui anche la registrazione del disco e poi io negli anni lui ha cambiato diverse formazioni il trio punk e poi con l'avvento anche dell'altra band gli FSC con Davide Ferrari eccetera ha cambiato un po' di band finì ad arrivare a una a una formazione che era un po' ibrida e non c'era il bassista quindi Pino Pischetola che avevo rincontrato il fonico nonché produttore avevo rincontrato in un Sanremo esatto fu lui a a chiedermi se per caso mi interessasse ad entrare ovviamente gli sono debitore perché non pensavo che avrei mai più suonato con Franco invece ho fatto altri due anni molto belli tra cui anche la tournée con l'orchestra Toscanini quindi sono stati altri due anni molto belli in quel periodo Lorenzo poi c'era un batterista molto bravo Giovanni Colombo un ragazzo Giordano sì Giordano Colombo con cui ha collaborato diversi anni è andato avanti fino all'ultimo periodo sì 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 molto personale devo dire eravamo anche giovanissimo questi compagni dell'85 perché quando l'ho conosciuto ad un concerto di una semplicità ed era lui che diceva a me ma allora tu suonerai meglio di me perché tu hai studiato tu con un golino e hai detto no guarda magari potresti essere su un palco ed ero un bravo batterista perché poi è molto bravo si è tornato in studio di tanta gente perché se pensi che nell'imboscata c'è David Ruzio però deve essere stato ecco era che ti volevo proprio chiedere perché chi ha lavorato per me combattiato ha una sorta di aurea che deve essere stata un'esperienza fotonica cioè sì sì veramente molto per me è stata molto significativa ho stato veramente molto fortunato per tutta questa serie di coincidenze di eventi perché ma non sono coincidenze sei stato bravo Lorenzo dopo sei stato sul pezzo un umile servitore insomma però ecco la cosa bella musicalmente con Franco è che nessuno ci ha mai detto fai così o fai cosà soprattutto i primi anni quindi le mani andavano proprio molta moltissima è per tutti sia bello per un musicista perché non ti senti sotto pressione succede poche volte devo dire poche volte succede c'è una digressione invece invece combina tutto l'opposto cioè combina tutto scritto no al contrario anche lì al contrario cioè lì anzi lì allora i primi due dischi erano prodotti che ho fatto che sono Bau e Todavia erano prevalentemente prodotti da Nicolo Fragile che anche lui lascia margine ma essendo un musicista peraltro stellare con un senso pratico incredibile Nicolo è uno che ti lascia suonare perché le mie esperienze però hai le idee talmente chiare in testa che le veicola molto in fretta e riesci a isolare le cose che funzionano di più per cui diciamo collabori sulla parte creativa ma ci sono stati anche altri produttori in primis quello più importante secondo me per Mina che è il figlio Massimiliano secondo me alla fine è sicuramente uno dei più importanti in termini di produzione perché ha una cultura musicale incredibile una passione pazzesca una passione e una sensibilità veramente notevoli e ha il gusto nella scelta di chi deve suonare certe cose quindi chiama i musicisti cioè una cosa che una volta è normale ma a me capita poche volte devo dire cioè di essere chiamato per come suono io certo quindi i lavori fatti sia con Nicolò ma anche con Ugo Bongianni con Franco Serafini Massimiliano Gabriele Comeglio tutti gli arrangiatori con i quali ho lavorato per Mina in genere ho sempre comunque avuto molto margine quindi un gesto di fiducia che lì per lì lì per lì poi calcolando che lei preferisce che i brani lei è un pochino tutta la squadra preferisce che i brani siano suonati una sola volta quindi non le proviamo tre quattro volte la prevalenza è su quello lì quando c'è lei il brano è una volta quindi se poi c'è un errorino che lo vuoi correggere ma non vuoi sapere però ecco anche questa cosa qui non era facilissima da gestire c'è un disco in cui avevo suonato alcuni brani e uno di questi il brano si intitola si intitola mi ami ancora avrà non so quanti anni penso più di dieci anni penso eravamo a fine giornata io ero bollito bollito col cervello e non mi ricordo se lei o Massimiliano disse l'inizio facciamo le prime strofe solo basso e voce basso arpeggiato e voce calma ecco e mi ricordo che mi innervosi un pochino perché ero molto stanco cioè ho detto che devo fare un pezzo basso e voce con Mina e io ho il cervello che mi ha abbandonato alle 5 era tardi cioè erano tipo le 8 era ora era finita la giornata insomma mi sono fatto coraggio e allora quello che si sente è quello che abbiamo fatto lì via ecco però ecco suonare liberi è bellissimo ma è una roba ti mette alla prova però sono raccordi ovviamente molto belli ma il rapporto con Mina invece come è stato lei è tranquilla sì non posso dire di avere un rapporto con Mina sicuramente averla vista da vicino mentre si registra è già stata una fortuna perché non l'ho vista in tutti i lavori che ho fatto l'ho vista poche volte devo dire però insomma un po' di volte l'ho vista ecco soprattutto la prima volta che è entrata in regia mentre stavamo già registrando con Lele Melotti e Luca Meneghello stavamo facendo una base e non mi ricordo se c'era c'era Ugo Bongianni o Danilo Rea in quella sessione non mi ricordo chi c'era Piano Forte Rea prevalentemente c'è Ugo Bongianni comunque però c'è stato anche Danilo Rea in qualche occasione e ha aperto la porta io guardavo le sigle così sull'Eggio cioè ho detto è entrata Mina ecco fa un certo effetto per cui sì no ovviamente ho detto io devo suonare devo suonare io devo pensare a suonare abbiamo cambiato poche parole lei comunque è stata veramente molto carina per una cosa ecco diciamo un pochino l'unica che nella quale c'è stato un po' di vicinanza perché non mi ricordo se era quel disco comunque di quel periodo comunque era 2009 era nato il mio secondo figlio Tommaso che non se ne voleva non ne voleva sapere di uscire da sua mamma non ne voleva sapere quindi ritardo su ritardo ho detto ma sì siamo andati in ospedale un giorno e mezzo prima io sapevo di dover andare in studio alla mattina ma ero tranquillo ho detto faremo tutto niente non veniva mai fuori Tommaso hai capito alla fine sì alla fine con un po' di peripezia povere Graziella mia moglie è stata veramente in salita è stata una guerriera assolutamente il mio generale diciamo e insomma ha deciso di uscire tardissimo con tutto quello che è stato le problematiche in ospedale eccetera insomma sono arrivato a casa alle 5 di mattina poteva essere del giorno della registrazione ho detto cosa faccio vado a letto cioè alle alle 6 e mezza 7 dovevo partire cioè dovevo essere a Lugano alle 9 e mezza quindi niente alla fine mi sono fatto la doccia ho caricato gli strumenti sono partito con gli occhi così perché era due giorni che ero in ospedale a Pavia abbiamo fatto ero ero morto giuro però c'era lei quella volta lì ovviamente no? ovviamente lei quella volta lì c'era fortunatamente perché mi rendo conto di portare dentro di me delle cose uniche e anche difficilissime da condividere sono molto fortunato e Massimiliano in giornata le ha detto ma non sai che lui è arrivato direttamente dall'ospedale perché oggi è nato Tommaso e lei ah dai bene niente andiamo avanti a lavorare dopo poco torna con una sua foto mi viene la pelle d'oca ancora con la dedica con scritto benvenuto Tommaso oggi il tuo papà sta lavorando per me che la vita ti sia lieve la data cioè non riuscivo più andare avanti è dentro una cartelletta chiusa dentro devo assolutamente metterla fuori l'ho pubblicata comunque su Instagram però mi barbellava barbellare molto piacentino devo dire come termine cioè mi tremavano le gambe intanto mi esce qualche termine piacentino da cui anche questa se posso permettermi i cani della biscia una band strepitosa di Piacenza di bravissimi musicisti che sostengono anche la cultura piacentina musicale mi tremavano le gambe facevo un po' fatica avevo davanti questa foto e lei carinissima dolcissima ti sei emozionato mi sono emozionato ancora adesso per cui sì lei è sicuramente una persona che c'è ecco una persona di sostanza di spessore umano e musicale il tuo figlio è di 13 anni ecco di 13 sì esatto che adesso ne fa 14 tra poco ecco non ti sto annoiando perché a volte magari inizio a raccontare un po' le mie cose no no ma guarda ci sono c'è gente che ci sta seguendo però il bello perché ti dico io in tre anni adesso non è voglio fare l'uomo consumato con il canale trovare dei turnisti che ho intervistato come hai visto delle persone di un certo spessore però parlare ancora con gente di una caratura come la tua turnisti che hanno fatto perché qui signore c'è da ricordare una cosa non indifferente e non dimentichiamocela mai queste persone che io intervisto sono persone che hanno creato la musica che sentono sui cd quindi parlare con queste persone per me è un onore quindi che tu parli non ti devi neanche non devi neanche passarti per la testa ti sto annoiando perché sono cose di vita che per me un musicista o un cultore giovane come sono io che ne ho 38 giovane per cioè si suol dire giovane tutto relativo tutto relativo c'è da ascoltare perché quello che tu racconti c'è soltanto da stare muti perché questo denota l'umiltà delle persone come te come Paolo come Marangolo mi sono reso conto di avere davanti persone perché anch'io ho suonato sui tuoi brani sull'album di Ruggeri che ho studiato tanto dove ti ha tenuto a batteso il buon Alfredo chiamato il principe la mina che lo chiama il principe cioè questo è importante per me perché che tu mi dici una cosa così no non mi sono annoiate perché siete delle figlie di cane ma no figurati ognuno dà il proprio contributo alla società certo sicuramente aver fatto parte di una cosa che poi è stata che ha avuto della comunicazione un contatto con altre persone questa sensazione di condivisione posso capire che magari possa conferire un significato maggiore perché qui ti dico io ho una piccola chat in parte salutiamo Fabrizio Cocco che mi dice questi aneddoti sono bellissimi ed è impossibile annoiarsi grazie quindi c'è un altro che si chiama Guido Fiori un saluto al maestro Lorenzo Poli che ringrazio per il bel metodo tecnica e linguaggio del bassista un saluto da Torino e siccome oggi ho sentito il buon Paolo Costa che ti saluta lui non ha detto nell'intervista e mi ha detto di ricordarlo e io ho detto lo ricorderò il vostro metodo che avete anche scritto che penso sia per un bassista di fondamentale importanza perché tu fai è stata una bella esperienza molto molto impegnativo molto importante condivisa appunto con Paolo e con Attilio Zanchi è scritto a sei mani questo metodo e contrabassista Zanchi contrabassista bassista si è ha suonato tutto Attilio poi chiaramente negli anni ha perseguito più quella strada ma è un musicista che ha suonato veramente tantissime cose una cultura musicale incredibile una persona incredibile così come Paolo ecco quindi è stato qualche anno ci abbiamo messo un tre anni più o meno a scriverlo è stato un continuo modificare rimodellare questo metodo che era partito da essere una dispensa di arpeggi così e è diventato un pacco enorme però sicuramente racchiude buona parte delle nozioni che diciamo che secondo noi tre erano le più importanti esatto quindi ecco è stata una bellissima esperienza didattica perché chiaramente nel farlo vedere Paolo le sue priorità e Attilio le loro nozioni così immagino come per me fornire quello che era il mio pregresso è stato veramente formativo che alla fine mi avrebbero dovuto dare un diploma perché ho imparato talmente tanto nel fare questo metodo ci ho imparato io e poi è stata un'esperienza incredibile dal punto di vista umano perché siamo stati insieme veramente tantissimo cioè nel mio studietto con Paolo ma anche a Milano da lui io non ho idea di quanti mesi siamo stati a suonare scrivere registrare ascoltando dischi eccetera siamo stati d'incanto proprio è stato un periodo molto intenso e mi fa piacere che Guido si chiama quello che ha scritto Guido Fiori Guido che Guido l'abbia fatto presente ecco perché dentro al di là delle nozioni didattiche c'è veramente c'è tanta condivisione mi fa piacere che sia tangibile ecco penso che sia veramente una cosa cioè questo che tu dici proprio si sente che c'è la passione Lorenzo che dire è stato un piacere aver parlato con te però ti lascio con un'ultima con un'ultima no no grazie a te che grazie cioè sei stato stradisponibile un'ultima domanda cosa stai sentendo in questi giorni roba vecchia o stai ascoltando roba nuova ascolto le playlist che riesco a rubacchiare adesso perché non so molto da playlist mi piace quando parte un disco mi piace ascoltarlo tutto sì però condivido la passione del diciamo non dell'automobilismo però delle macchine con mio figlio Leonardo quello grande che molto appassionato le modifica insomma ecco e ascolta un genere di musica veramente spinto compresa la trap compresa altre cose quindi io mi ci butto per ascoltare anche quelle cose lì devo dire che in mezzo ho imparato a dividere ci sono le zozzerie ma c'è della roba fatta anche molto bene in quel genere detto questo per la musica se voglio proprio sentirmi aprire le coronarie devo andare a pescare roba vecchia sì ho fatto anche degli esempi oggi in conservatorio perché ci sono dei dischi veramente bellissimi che escono quindi ogni epoca ha delle cose meravigliose però ecco quando si mette su un disco che si ha la certezza che sia stato scritto e suonato così o anche solo suonato perché non c'erano arzigogoli tecnologici di varia natura e dice questa è stata pensata e suonata così in una volta ecco allora ho messo su dei dischi i primissimi dischi dei Bee Gees o Billy Joel l'Electric Light Orchestra l'Electric Light Orchestra che ha fatto io non le conoscevo bene conoscevo qualche pezzo e settimana scorsa andandomi a fare un giro in bicicletta che è l'unico o le camminate o in bicicletta è l'unico mio momento in cui riesco ad ascoltare la musica senza stress mi metto su questa cuffietta qua da poco perché non mi piace sentire spinto voglio sentire un suono normale se no va a finire che comincio a dire ah qui allora c'è il reverbero in controfasi aspetta però c'è la Stratocaster a sinistra a destra mi ha messo una chitarra ma è un sample me la ricordo la library cioè quindi se non voglio finire in quel ginepraio ascolto con queste cuffiette qua semplicissime molto cioè senza i gommini e in bicicletta ecco quindi mi è venuto in mente l'Electric Light Orchestra perché avevo sentito un pezzo a Radio Monte Carlo ho detto ma hanno fatto un sacco di dischi non li conosco ci ho scoperto che hanno fatto dei pezzi di una bellezza guarda ci sono è un pop bellissimo quello lì è molto bitolziano perché c'è da dire sì le influenze ci sono è molto bitolziano gli album per me più belli che hanno fatto sono New World Record e è quello che c'è il loro simbolo in un cielo stellato con la città sotto e poi quello con la con la navicella che si chiama Out on the Blue dove c'è su Mr. Blue Sky dopo vado a rivederli perché li ho ascoltati tutti in fila e non mi ricordo qualunque l'altro ce n'era uno dell'81 bellissimo uno dell'83 bellissimo uno dell'87 anche quelli degli anni 70 ho visto però questi qui mi erano rimasti impressi uno del 77 meraviglioso che c'ha su anche un singolo famoso quello quello che si chiama Out on the Blue dove c'è su Mr. Blue Sky quello dell'81 è un album di transizione che si chiama Time Game che è tutto basato sulla fantascienza e poi quello dell'83 bellissimo è un capolavoro quello dell'83 si chiama Secret Messages ma ne ha una che memoria che cultura assurda che hai bravo si chiama Balance che è una copertina rossa buah complimenti no e poi ecco e poi mi hai detto i primi dei Bee Gees sono fotonici i primi dei Bee Gees mostruosi veramente di una bellezza ma tutto ma tutto tutto guarda che anch'io no vabbè io adesso ho ripreso a riscontare poi ti saluto perché sei stato molto gentile io ho una stanzetta della musica sotto è di segni a alta fedeltà e ho collegato un registratore a bobine del mio babbo perché negli anni 70 c'era una sorta di pirateria che tu registravi dai dischi e ti facevi la bobina ho riscoperto dei gruppi che non ricordavo vabbè io ero piccolo lui ha smesso di registrarle nell'82 ha delle bobine che vanno dal 69 all'80 sono 32 bobine passiamo dalla prima bobina partiamo dalla prima bobina che aveva avuto 17 anni dove è un tripudio Stugis MC5 vedi la crescita della persona quando arriva poi negli anni 77 78 che comincia a registrare in stereo perché le bobine erano in traccia traccia 1-4 traccia 3-2 quindi in mono per risparmiare da quando lui poi è stato assunto perché è un medico di papà noti che dal 77 che è l'anno in cui si è laureato e nel 78 le bobine sono in stereo e quindi le voglia anche di più no? e di conseguenza dei gruppi come tipo c'è sulla bobina una del 78 che tu mi dirai sì è scontato il primo dei Daya Streets Six Blade Knife tu pensi ad ascoltarlo con la bobina proprio col nastro senza reduttori di suono quindi io penso che quando una cosa ti piace e la scopri e la risenti io sento tutta roba vecchia nuova adesso c'era Stephen Wilson però vabbè un bassista che mi ha sempre esaltato che è molto poi c'è all'anima sua Mitch Karn il bassista dei Japan te lo ricordi? orca miseria come no? mi caro suonava il basso usava dei bassi fotonici che ti ricordi? i VAL te li ricordi? i WAL sì sì i WAL me ne ricordo i WAL ecco anche quel bassista lì a me i bassisti vabbè Tony Levin e tutto ma Mitch Karn mi si è piaciuto figlio Lorenzo è stato un piacere grazie anche per me questa diretta mettila dove vuoi sulle tue pagine è stato un enorme piacere un grande piacere e come dico sempre ti passerò a trovare il conservatorio a presenza a Milano sono ah sei a Milano dove sono a Milano sì esatto dove c'è anche Alfredo dove c'è anche Paolo sì sì Danilo Madonia allora quando devo perché io ho un ti aspettiamo ti vengo a salutare ti aspettiamo con grande piacere ti ringrazio tantissimo ti faccio i complimenti che ho visto qualcosa sul tuo canale prima di che ci connettessimo e mi piace molto il modo in cui ti poni grazie tu sei una persona di grande cultura musicale ma non la ostenti mai che non è così comune quindi complimenti e grazie a chi ci ha seguite grazie a tutti e ciao Lorenzo e ci vediamo tante buone cose a tutti a presto ciao 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 ciao